Siamo appunto da capo, dove dobbiamo cercare Neco esattamente, forse un'idea, ma dobbiamo sbrigarci. Wow, sai già dove si trova o cosa? No vi le rindo, per che caso avete invertito il flusso del tempo per arrivarci? Esatto, presso Neco si troverà a combattere con i Rimbreakers e perderà. Oh, che disgrazia, cacchio! Abbiamo già tentato il 104, Central Street, Shibuya e Kairi e Tokia Plaza. In più abbiamo ricevuto parecchie informazioni utili dalle altre squadre, secondo me può bastare per trovarlo. Quindi, dov'è che sta? Non ne sono sicurissimo, ma penso di poterlo intuire, devo solo mettere insieme tutti i pezzi. Neco e i Rimbreakers dovrebbero trovarsi? Col di Spagna no, Tipsy Tops no. 104 no, potrebbe essere allo East o allo Shibuya Stream. Potrebbe trovarsi lì nonostante sia chiuso. Allora, seguendo le note e sapendo che lo stream è chiuso, se ha seguito questo percorso qui, se ha seguito questo percorso e non è a Dogenzaka e non è al sottopassaggio dell'autostrada, rimangono due opzioni, questa e questa qui. Io sono abbastanza sicuro che sia qua. C'è un solo posto dove può essere. È vero? L'unico posto in cui non sappiamo se c'è. E cioè? L'uscita ovest dell'autostazione. È proprio lì. Ok, indietro nel tempo e si controlla l'uscita ovest dell'autostazione. Dobbiamo trovare Neku per primi. Ce la faremo? Il guerriero spaziale solitario. Piazza una bomba a tempo ai tuoi piedi. I nemici colpiti dei detriti causano un'esplosione e vengono respinti. Niente di eccezionale, però... Quindi, all'uscita dell'autostazione. Ed eccoci qua. Dov'è Neku? Cosa c'è? Reptugokella si è l'edizugumi. Cosa? Dove? In cima a quell'edificio. Eccola là. Sta facendo da cecchino. Grandioso. E adesso? Ignoralo Tamarinda. Sono un'altra notizia lampo. Non c'entra con la missione. Bene, l'abbiamo trovato. Manca davvero poco. E' ora di salvare Neku. Allora, quindi zona nuova. Vediamo se c'è cibo nuovo. Uh, onigiri. Carini questi. 180 calorie. Poi ci sono abbastanza poche. 4 pf però. Un po'... Speravo qualcosa di meglio. Il vento variegato. Sembra molto buono. Me lo spaccherei. 250 calorie. Benissimo. Se Zugumi è qui... Dobbiamo cambiare il nostro destino. Proviamoci. Dobbiamo salvare la leggenda. Ce l'abbiamo fatta. E anche appena in tempo. Diamoci una mossa prima che Neku venga fatto fuori. Non credo potremmo essere d'aiuto contro le Zugumi. Beh, ci toccherà esserlo. Stavolta non possiamo tornare indietro. Questa è la nostra ultima possibilità. Obiettivo trovato. Witchet Twisters. Lady Zugumi si avvicina. Ok ragazzi. Teniamo viva la leggenda. Ragazzi. Questa storia non mi piace. Ah, l'oscurità è inarrestabile. Ma che... Miau. Oh, sono impazzito del tutto. Pure quel peluche è passato all'attacco. No. Dobbiamo combattere contro quello. Ma no, mister Miau. Comunque. Daie. 2500 punti. Bello. Combattimento notturno. Miau. Abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Dio mio, ma il modello in 3D è fantastico. E ovviamente... Non era il combattimento principale. Io lo sapevo. Era palese. Via. Perfetto. Vorrei. Ui. Da dietro le spalle. Ed è infami eh. Perfetto. Dove sta andando? Non lo vedo. Miau. Guardate là. Buongiorno eh. Minchione. Io volevo evitarlo ma... Perfetto. Mi sta piacendo sto scontro. Eccolo. Mega satan è arrivato. È uno scherzo. Dio mio. Perfetto. Volevo proprio provarlo. Bucchi neri. Oh eh. Bucchi neri. Wow. Mi aspettavo qualcosa di... Un filo più elaborato sinceramente. Eh. Eh. Uh. Uh. Nor do I. Ok Ui che è successo? Ah è Questo qua per terra Ah ma devo stare nella luce Io pensavo che la luce erano i suoi occhi Non il mio punto di salvezza Ecco fatto Ma basta un po' Basta Maledizione a te Ok Io vorrei attaccare lui però Nanki fai attenzione Come faccio a colpirlo Perfetto Evitiamo Evita evita Minchione Ancora Ma che palle questo qua quando fa il tornado Ottimo Beccati questo Ah ma che scemo Cioè Allora colpire quello grande Abbassava più velocemente la vita Ma tutti i pupazzi avevano la stessa quantità di vita Che stupido Non ci avevo pensato Cioè Avevo visto che la vita si abbassava Ma non Non avevo collegato nella mente Però Ce l'abbiamo fatta Neanche con troppa difficoltà In verità E abbiamo giocato in difficile per la prima volta Quindi Non mi posso neanche lamentare Mi spiate Tsugumi Ma hai perso E Cosa animata Fantastico Oh ciao Neku Che non sei Neku Dai è palese Dai che non è lui È palese È palese che non è lui Dai È Beat Esatto Bastato uno yo per capirlo Eccolo I Ruin Breakers sono arrivati E invece se ti dicessi di no D'accordo Però intanto ti ho fatto un culo così Che bella la musica originale Madonna mia Ti spacco la faccia A fine settimana Un zio Ma quanti anni Ah beh aspetta è vero Sono passati tre anni Quanti anni avrà Beat ora Dovrebbe averne Sulla 18 Forse poco più Forse poco meno Ovviamente Beh non vi siete informati Ma qualcuno non sa Di Beat Cioè Sanno di Neku Ma non sanno di Beat Sembra strano Di nuovo Punto Sì Esatto Ma che brutta voce Gli hanno dato In inglese Non mi piace la sua voce Di nulla Beat Eh esatto Perché ci hai aiutato Davvero? Ma in realtà Stavamo vincendo Beh se avessi il potenziale Di una volta Sicuramente Saresti molto potente Forse è lui La linea di collegamento Con Cariglia Vanno da Esatto Vanno d'accordo Oh no Fidati Fidati Ci si può fidare Di lui Ascolta Stai zitto E accettalo Nella squadra Davvero? Perché voi avete Uno sguardo migliore Chi lo sa Tre punti amicizia Alla nostra squadra Il tuo social È stato aggiunto Beat Eh non so chi parla Ah quindi è stato Tutto un malinteso Sembrerebbe Peccato Non vedevo l'ora Giocare contro una leggenda Chiunque sia questa pedina Non è niente male Ma non è neco Questo è certo Sugumi sarà a pezzi Poverina Ma credo che sia Il momento giusto Per battere il ferro Finché è caldo Battere Non vorrei Ups Non vorrei dire Dammi ancora un po' di tempo Ci sono ancora pedine Che voglio rovesciare I preparativi Sono già in corso Resta solo Ad accendere la miccia Non preoccuparti I giocatori col fuoco dentro Ci troveranno Dai Sì Ci penso io Secondo me Lo conosciamo Quel personaggio Leggenda vivente Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima